Sono Silvia Di Chirico e sono l'esperta Baobab per Fuerteventura. Oggi vi parlo del Barceló Corralejo Sens, un hotel che si trova a Corralejo, quindi in zona nord di Fuerteventura. E' una delle località, forse la località più famosa soprattutto per noi italiani qui a Fuerteventura. L'hotel fa parte della prestigiosa catena Barceló, è un quattro stelle moderno ed elegante e la catena Barceló ne garantisce sicuramente la qualità sia delle sue infrastrutture che dei servizi. Baobab l'ha voluto inserire all'interno della sua linea family per la vocazione particolarmente familiare di questo hotel. Troviamo infatti un'animazione, in particolare un mini club, il Bersi Club, per cui veramente la catena Barceló è famosa in tutte le sue strutture e tiene particolarmente alle attività ludiche e non solo che si svolgono al suo interno. Pensate, per bambini dai 4 anni fino ai teenager di 15, quindi davvero un programma ben collaudato e assolutamente adatto sia ai bambini più piccoli che ai ragazzini più grandicelli che sappiamo essere i più difficili da accontentare in questo senso. Oltre a questo le famiglie trovano qui, pensate, camere family di ben 44 metri quadrati, quindi delle camere decisamente ampie. Come potete vedere poi piscine, scivoli d'acqua, insomma veramente il mondo, il paradiso per le famiglie. Detto questo però l'hotel viene anche assolutamente scelto da coppie o da gruppetti di amici che vogliono vivere il cuore di Corraleco, di questa località. Infatti l'hotel sorge in una location particolarmente privilegiata, Corraleco. Siamo nel cuore della città, a pochi passi, a 300 metri, dalle spiagge cittadine di Corraleco, quella che è più comunemente più famosa con il nome di Waikiki Beach per la presenza di questo storico beach club, il Waikiki. E quindi insomma assolutamente una location privilegiata. Anche il centro di Corraleco si trova a pochi passi, quindi l'hotel sorge sì, leggermente defilato dal centro un pochino più caotico, però proprio veramente con una brevissima passeggiata si arriva a tutti quelli che sono i ristoranti, i locali e poi la zona del porto per tutto il divertimento che si vuole. Non dimentichiamoci poi che le grandi spiagge di Corraleco e il Parco delle Dune, forse l'attrazione principale o una delle attrazioni principali qui a Fuerteventura, si trovano a poco più di due chilometri, quindi sono facilmente raggiungibili dall'hotel e qui si trova davvero un posto unico, in quanto parliamo di chilometri, chilometri decine, di chilometri di sabbia che la leggenda vuole essere stata trasportata qui direttamente, granello per granello dal deserto del Sahara e che si tuffa nelle acque dell'oceano, che da queste parti raggiunge delle sfumature di turchesi, di blu e di azzurri quasi tropicali. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto e lo avete trovato interessante, non dimenticate di mettere un like e alla prossima!